Allora siamo qui con il professor Paolo Grillo dell'Università Statale di Milano a presentare il suo ultimo libro Federico II la guerra le città e l'impero e il sottotitolo è importante e lo vedremo subito. Da dove cominciare Federico II naturalmente Federico II di Svevia uno dei grandi imperatori della storia medievale è un personaggio quindi ben conosciuto più o meno da tutti però ricordiamo comunque rapidamente. Federico II è il nipotino dell'imperatore Federico Barbarossa cioè il primo imperatore che nel XII secolo si era trovato di fronte al fatto che nel suo regno d'Italia le città si erano abituate al fatto che il sovrano fosse sempre assente e si erano abituate a governarsi da sole e a combattersi l'una con l'altra. In altre parole siamo siamo qui da noi siamo nell'Italia settentrionale che all'epoca è un regno che arriva fino appunto a comprendere anche il centro è un regno che ha un re salvo che per un po' di tempo quel re ha avuto dei re italiani l'ultimo è stato un piemontese Arduino di Ivrea all'inizio dell'undicesimo secolo poi si è affermata definitivamente una consuetudine per cui in realtà i due regni di Italia e di Germania hanno un unico sovrano e questo sovrano è il re di Germania e quindi un tedesco che sta in Germania e viene in Italia una volta nella vita per farsi incoronare imperatore dal papa e poi torna in Germania. In questo contesto il regno d'Italia diventa sempre di più una struttura diciamo così superata dai tempi. Funziona fino a un certo punto funziona solo quando il re è presente altrimenti non c'è quasi niente di struttura amministrativa e siccome il re che ripeto è legittimo re d'Italia ha tutto il diritto di governare il regno d'Italia però è un tedesco e non lo si vede quasi mai l'Italia va un po' per la sua strada e in tutto il centro nord le città fondano i comuni e si abituano a considerarsi autonome non indipendenti perché l'idea che c'è l'imperatore comunque ce l'hanno in testa tutti e l'imperatore l'ha messo l'idio il progetto di dio per l'umanità è che ci devono essere un papa e un imperatore che dovrebbero andare d'accordo e dovrebbero governare il mondo però l'idea in Italia è che l'imperatore noi gli vogliamo tanto bene proprio perché non lo vediamo mai e meno viene a pretendere delle cose meglio è nel dodicesimo secolo a un certo punto c'è un giovane imperatore re di Germania e re d'Italia il quale decide di provare a cambiare le cose decide che i tempi sono maturi perché anche il regno d'Italia comincia a funzionare davvero come uno stato con un sovrano che si fa ubbidire che nomina dei giudici che riscuote delle tasse lo sappiamo tutti Federico Barbarossa incontra la fiera opposizione dei comuni di gran parte dei comuni italiani nasce la Lega Lombarda e dopo anni di guerra Federico Barbarossa viene sconfitto alla battaglia di Legnano ed è costretto a riconoscere che i comuni sono autonomi non indipendenti nessun comune lo pretende però Federico Barbarossa riconosce che ogni città italiana ogni città della Lega Lombarda meglio sul suo territorio è come se fosse il sovrano a tutti i poteri compreso quello di fare le leggi ogni comune comincia a farsi le sue leggi vabbè poi Federico Barbarossa deluso da tutto questo decide di andarsene a fare la crociata e muore mentre in Asia minore mentre attraversa un fiume e va bene ma era già molto vecchio peraltro lascia un figlio Enrico VI il quale dura poco ma fa in tempo a fare una cosa molto importante io finora vi ho parlato di un regno d'Italia che comprende il centro nord e il sud e il sud è un regno indipendente messo in piedi dai normanni che dopo l'anno 1000 sono immigrati sempre di più verso l'Italia meridionale cavalieri normanni guerrieri normanni capi normanni con i loro seguiti hanno sconfitto le tante forze i tanti popoli che vivevano nell'Italia meridionale Longobardi bizantini arabi e alla fine questi capi normanni hanno unificato tutta l'Italia meridionale e la Sicilia creando un proprio regno quindi l'Italia è organizzata in due regni quello del centro nord che in pratica non funziona e quello del sud che invece funziona fin troppo bene la grande cosa che fa Enrico VI è di sposare la principessa Costanza che eredita il regno del sud e quindi il regno d'Italia centro nord e il regno normanno del sud vengono a trovarsi sotto la stessa autorità muore Enrico VI lascia un figlio bambino lui Federico II il quale quindi potenzialmente si si troverà ad essere re d'Italia e re di Germania e imperatore in quanto figlio di Enrico VI e re di Sicilia si chiama così ufficialmente il regno di tutto il sud in quanto figlio di Costanza come capite intorno a questo bambino come dire si concentra subito l'attenzione di tutto il mondo dell'epoca il papa è convinto di poterselo tener buono di poterlo allevare lui e che verrà fuori un imperatore che finalmente anziché cercare di imporre la sua autorità a danno di quella del papa accetterà di andare d'accordo col papa e di stare anche un passetto indietro magari ci sono grandi speranze intorno a questo ragazzino il quale rispetto a suo nonno Federico I ha se non altro questa caratteristica che non è così vistosamente un crucco come suo nonno ecco di che nazionalità sia Federico II non è facile dirlo e con i sovrani è spesso una domanda oziosa di che nazionalità è ma nel suo caso certamente c'è un'eredità tedesca ma c'è anche un'eredità normanna dell'Italia meridionale e lui come dire il luogo dove sta veramente a casa è il suo regno di Sicilia c'è poco da fare tanto che quando è giovane appunto e ci sono grandi aspettative intorno a lui si parla appunto di questo di questo ragazzino il Puer Apulie che mi sentirei di tradurre un po' anacronisticamente il ragazzo del sud comunque c'è questo ragazzo del sud che potenzialmente sarà il più potente sovrano d'Europa Germania Italia del centro nord il sud ecco questo è Federico II il quale riesce a salire al potere a ottenere la sua eredità già ragazzino grazie all'aiuto del Papa benché abbia concorrenti e nemici ecco e poi a questo punto essendo salito al potere già ragazzino regna poi molto a lungo in che anno era nato che non me lo ricordo mai nel 90? 96? 97? ho un buco adesso non ci siamo messi d'accordo prima come vedete diciamo che al prossimo esame abbuoni una data ai candidati vero sì comunque sostanzialmente quando muore non è evento vecchio avrà 53 54 anni ma ma sono 45 anni che regna ecco quindi ha lasciato tutta la prima metà del 200 magari c'è scritto nel tuo libro da qualche parte no c'è scritto dove insegni tu ma quando è nato Federico che è nato questo lo sappiamo a Iesi fra tutti i posti possibili vabbè pazienza ad ogni modo il punto è che Federico avendo quindi regnato molto a lungo suscitato grandi speranze e poi provocato anche grandi ostilità e combattuto durissime guerre e fatto crociate che però non è piaciuto al papa il modo in cui l'ha fatta perché si è messo d'accordo con l'insultano per farsi ridare indietro Gerusalemme pacificamente anziché conquistarla ecco e accettando anche una specie di condominio con i musulmani a Gerusalemme ecco avendo fatto mille cose essendo per di più un sovrano pieno di curiosità pieno di interessi anche scientifici era un personaggio leggendario sostanzialmente già da vivo che suscitava enorme ammirazione odio sfrenato e questo personaggio leggendario ha continuato ad apparire leggendario anche agli storici che secoli dopo si sono occupati di lui ecco perché quando ho sentito che Paolo aveva scritto un libro intitolato Federico secondo la prima cosa che mi è venuta da dire è stata accidenti che coraggio perché è un personaggio appunto gigantesco e su cui esistono molte bio questa non è una biografia integrale di Federico e ci arriviamo subito per fortuna esistono molte famose biografie di Federico secondo ce n'è una scritta nella prima metà del novecento da un grandissimo storico tedesco il Kantorowicz il quale vede Federico secondo come il super uomo poi il Kantorowicz era antinazista più che altro perché era ebreo se non fosse stato ebreo secondo me ma comunque essendo ebreo è stato anche antinazista però nella Germania degli anni 20 e 30 questa idea del super uomo girava abbastanza e il Kantorowicz scrisse un grande libro su Federico secondo immaginando appunto di vedere in quest'uomo ecco l'incarnazione di tutto ciò che l'essere umano può fare nel bene e nel male altri colleghi nostri più recenti hanno scritto biografie di Federico secondo inevitabilmente per dire era un uomo del suo tempo un sovrano del medioevo come tutti gli altri è inutile fare tanta scena sono le nostre illusioni che ci fanno vedere i super uomini lui era un re del 200 e il re del 200 faceva le cose che ha fatto lui ecco e poi adesso abbiamo anche appunto una biografia di uno studioso tedesco lo Stirner il quale non si è posto né l'obiettivo di creare un mito né quello di distruggere un mito ma di elencare ogni singola cosa che noi sappiamo di Federico secondo in un libro grossissimo noiosissimo ma conclusivo perché lì c'è tutto o quasi perché alla fine nel in questo enorme lavoro che la storiografia ha fatto sulla figura di Federico e a cui no questo lo dico dopo in questo enorme lavoro c'è un aspetto che è stato sempre molto sottovalutato perché sono partito menzionando il nonno Federico I perché uno che abbia sentito nominare in vita sua Federico Barbarossa può non saper niente di lui ma che ha combattuto i comuni ha combattuto la lega lombarda è stato sconfitto a Legnano diciamo sono le primissime cose che chiunque sa di Federico I Barbarossa Federico II ha combattuto per 15 anni i comuni i quali hanno formato una nuova lega lombarda proprio per combatterlo alla fine è stato sconfitto ha dedicato un grosso pezzo della sua vita attiva a questa guerra feroce che ha insanguinato l'Italia e devastato l'Italia eppure nella sua figura questo aspetto no non è così centrale mancava un libro come questo che è il libro di un medievista che si è occupato di tante tantissime cose ma ultimamente con particolare gusto di storia della guerra di storia militare del medioevo mancava un libro che analizzasse questo aspetto di Federico II che è anche un aspetto importante della storia dell'Italia del XIII secolo perché se l'Italia del XIII secolo a un certo punto si spacca come sappiamo tutti fra Guelfi e Ghibellini è perché Federico II ha voluto provare come aveva fatto il nonno a imporre il suo potere ai comuni e i comuni si sono ribellati ma si sono anche divisi al loro interno perché in ogni città c'era chi diceva no resistiamo contro le pretese del tiranno e c'era anche chi diceva ma se invece ci mettessimo d'accordo con lui tutto sommato no ecco quindi è un pezzo fondamentale della storia della storia d'Italia ecco questa è guerra lunga guerra di Federico II contro la Lega Lombarda e finora finora appunto nessuno l'aveva analizzata e raccontata in dettaglio e facendo vedere tutti i collegamenti che ci sono con appunto il mondo di allora no ecco con tutti gli aspetti della vita dell'economia della politica di allora aggiungerei ancora una cosa prima di chiederti che cosa vuoi dire innanzitutto per per aprire il discorso lo sto facendo lunga e abbiate pazienza ma c'è questo di strano in Federico II il nonno Federico I è un personaggio della storia d'Italia ed è stato a lungo un personaggio descritto nel modo più negativo possibile appunto il tiranno straniero che vuole opprimere i liberi italiani e mi dicono che anche recentemente comunque la politica è rimasta ferma a quel tipo di percezione e quindi come dire se si parla del Barbarossa della Lega Lombarda è in quella prospettiva lì il tiranno straniero e la libertà italiana Federico II ha fatto esattamente la stessa cosa cioè cercato di schiacciare la libertà dei comuni e abolire la Lega Lombarda però naturalmente in un certo senso era un meridionale nei cui confronti oggi nell'Italia meridionale c'è un vero culto specialmente in Puglia ma in generale nell'Italia meridionale chi si interessa diciamo così della profondità storica del paese no e delle tradizioni del paese con la figura di Federico II è davvero considerato come un punto di riferimento uno dei grandi italiani del sud diciamo così una delle grandi glorie Castel del Monte che è una delle sue tante residenze ma quella oggi meglio conservata è più bizzarra è uno dei grandi luoghi del turismo in Puglia le leggi fatte da Federico II sono considerate pietre miliari è una figura popolarissima no ecco ci sarebbe tutto il materiale per una bellissima riedizione del discorso Borboni contro Savoia Federico II il ragazzo del sud che ha cercato di sottomettere la Lega Lombarda invece questa prospettiva non esiste assolutamente mi sembra no né nella storiografia né nel dibattito pubblico ecco quindi in realtà una prima cosa potrebbe essere tu avrai già in mente delle cose da dire al di là delle mie dei miei suggerimenti ma questa cosa effettivamente di chi è Federico II oggi per l'Italia c'è una percezione diversa a nord e a sud e perché appunto questa sua ferocissima guerra contro i comuni lombardi non fa parte del nostro patrimonio comune risorgimento da risorgimento in poi come invece no la fa parte la storia del barbarossa no ecco sì è un ottimo punto di partenza guarda Sandro ti ringrazio e allora se mi permettete parto con due aneddoti ho presentato questo libro il mese scorso a Milano e io ho un figlio di dieci anni che legge Topolino e mi dice guarda papà due ore prima della presentazione su Topolino c'è il tizio su cui hai scritto un libro infatti c'era una storia di Topolino ambientata a Melfi in Basilicata in cui a un certo punto compare il fantasma di Federico II giuro e dispensando saggezza e saper vivere eccetera aiuta Topolino a risolvere un giallo e condanna il cattivissimo dicendo che insomma da lui era l'incarnazione della giustizia e quindi doveva intervenire ad aiutare Topolino ecco questo per dirvi cosa è Federico II nel come dire nella percezione comune no il secondo aneddoto è che in treno ero seduto di fronte a una signora un po' chiacchierona che mi ha chiesto perché venivo a Torino e quando ho detto che venivo a parlare di Federico II un tizio dal seduto due posti più in là mi ha detto io sono di Salerno un grande uomo Federico II quindi Federico II è vivo e lotta insieme a noi questo è in dubbio e infatti una delle cose che mi sono cimentato a fare ma è difficilissimo è proprio questo cioè bisogna scavare attraverso una serie di strati di mitologia che si sono accumulati sopra Federico II per cercare di restituire un po' la figura storica di Federico II che cosa vuol dire vuol dire cercare appunto beh innanzitutto di decostruire un'immagine di Federico su cui si sono centrati tutta una serie di obiettivi non storici no tu giustamente ricordavi prima quest'idea di farne una sorta di modello per il nuovo Führer che avrebbe portato la Germania di Weimar fuori dalle dalle ristrettezze del dopoguerra no per cui nella Germania pre nazista e anche nazista credo fosse l'unico autore ebreo che i gerarchi nazisti leggevano facendo finta che non lo fosse quindi in Germania è stata costruita una figura una lettura politica di Federico II una è stata costruita in Italia perché durante il risorgimento chiunque ce l'avesse col papa andava bene per cui Federico II come campione della laicità italiana eccetera eccetera e poi anche una lettura appunto un po' campanilista che si ritrova anche nella storiografia no per cui gli storici settentrionali e meridionali quando c'è sempre un po' sottinteso noi avevamo i comuni sì ma noi Federico II quindi bisogna appunto prima di tutto decostruire questa mitologia su Federico e tentando di decostruirla la cosa interessante che si scopre è che allora dice però c'è Federico stesso cioè Federico aveva giustamente ci ricordava Alessandro professor Barbero ma ci conosciamo da una vita perdonatemi ecco che era un sovrano del 200 Federico quindi tante cose sono un po' sovrastimate ecco la novità di tante cose avendo uno sguardo meno provinciale andando a vedere cosa stavano facendo non so gli Aragona in Spagna o cosa stavano facendo gli imperatori bizantini o cosa avevano fatto prima i normanni la novità di tante cose fatte da Federico II un po' non dico che non fossero cose importanti ma rientravano insomma in scelte politiche no ancora adesso leggevo la fondazione dell'università di Napoli che è una delle grandi cose fatte da Federico II però si dice è la prima università voluta da un potere laico oddio la prima è Padova la seconda è Vercelli e la terza è Napoli se vogliamo proprio essere rigorosi Bologna non è stata voluta da un potere laico è nata non c'è non c'è nessun potere dietro alla nascita nasce spontaneamente come organizzazione di docenti dove c'è un potere che dice fondiamo un'università la prima è Padova a stretto rigore a dimensioni statali la prima è Napoli però vedete bisogna ricondurre un po' tutto nel nel contesto dove Federico ha indubbiamente una politica assolutamente innovativa e assolutamente criterio poco storico ma ci intendiamo avanti rispetto ai suoi tempi è l'idea della propaganda cioè lui sistematizza tendenze che anche lì c'erano già ma mai portate a livello come fa Federico di costruirsi un'immagine vendere un'immagine per questo ha Pier della Vigna che credo molti di voi avranno sentito nominare perché insomma è uno dei protagonisti della Divina Commedia di Dante che è uno dei grandi scrittori latini del tredicesimo secolo porta un enorme sapere proprio letterario compositivo lo mette al servizio di Federico e Federico comincia a costruire un'immagine di sé un'esaltazione di sé quindi non sono un semplice imperatore non ho quegli attributi della maestà imperiale quelli normali che erano già degli attributi importanti che si trovano nei diplomi di Federico I eccetera eccetera ma comincia proprio a presentarsi come una sorta di inviato divino sulla terra racconto questo episodio poi smetto ma tanto per darvi un'idea Federico II nel 1237 vince la battaglia di Corte Nuova contro i milanesi ed è una vittoria di dimensioni colossali insomma per i milanesi è una catastrofe e la cancelleria subito mette all'opera la cancelleria regia per far sapere a tutti in Italia o fuori d'Italia che ha vinto nelle prime lettere c'è sì perché i milanesi hanno manovrato così io ho manovrato così io sono riuscito a prenderli mentre passavano il fiume e ho vinto poi comincia Dio ha voluto che mentre loro passavano il fiume io andasse nelle ultime addirittura dice e mentre io andavo dal cielo si udiva la voce urrà urrà Federico carica per cui c'è proprio un crescendo evidentemente però strutturato dalla cancelleria imperiale che vuol presentare la vittoria non come una vittoria dell'imperatore contro dei ribelli ma come una espressione della volontà di Dio che Federico costruisse il suo impero e domasse le ribellioni quindi già Federico ha cominciato questa enorme costruzione della sua immagine su cui poi si sono innestati appunto tutti questi interessi queste curiosità che poi arrivano appunto a livelli un po' parodistici quando si legge che non so Castel del Monte appunto è uno dei pilastri conficcati sulle linee di faglia della terra per controllare la geodetica del mondo perché lui era un illuminato portatore di saperi arcani quindi insomma poi si arriva addirittura alla così almeno dal mio punto di vista alla parodia nel vederlo come una specie di rettiliano ante litteram. D'altra parte questo tema però appunto del millenarismo della fine del mondo dell'inviato divino o dell'inviato di satana invece è un tema che è ben presente per la sua generazione no perché comunque voi sapete in passato c'era questa leggenda del fatto che all'arrivo dell'anno mille la gente credesse che il mondo sarebbe finito e su questa cosa i letterati dell'ottocento hanno scritto pagine straordinarie credendoci naturalmente no c'è una pagina del Carducci meravigliosa in cui gli dice ma vi immaginate la gente negli ultimi giorni dell'anno 999 tutti lì raccolti nei monasteri nei chiostri a pregare disperati e vi immaginate voi cosa è successo l'alba del primo giorno dell'anno mille quando il sole è spuntato lo stesso e allora il mondo ha tirato un sospiro di sollievo e così via questo è stato accertato che sono tutte leggende non è tutte cose inventate dopo la gente dell'anno 999 non si aspettava minimamente che il mondo finisse l'anno dopo è una cosa interamente costruita dopo però però la gente i credenti del medioevo e cioè tutti perché quello era un mondo dove tutti bene o male erano credenti e credenti in modo molto concreto cioè convinti davvero che mentre noi facciamo delle cose da lassù ci stanno guardando e che quando saremo morti ci chiederanno conto di quello che abbiamo fatto e che si va in paradiso si va all'inferno poi grazie al cielo c'è anche il purgatorio e però a queste cose ci credevano sul serio e in questa stessa prospettiva erano seriamente preoccupati davvero del fatto che il mondo finirà prima o poi ovviamente anche noi siamo preoccupati la bomba atomica e così via ma loro come dire avevano qualche ragione in più per ragionare su queste cose perché nei libri sacri del cristianesimo naturalmente l'ultimo è l'apocalisse che descrive testualmente come avverrà la fine del mondo ecco uno storico di allora aveva su di noi questo enorme vantaggio che poteva studiare il passato e però sapeva anche come andrà a finire la storia dell'umanità perché appunto ripeto nell'apocalisse è descritta dettagliatamente e ovviamente tutti pensavano che le cose avverranno davvero così gli angeli le trombe e i cavalli e tutto quanto però naturalmente nella bibbia si dice anche che il signore verrà quando verrà come un ladro nella notte cioè quando nessuno se lo aspetta e quindi la posizione ufficiale della chiesa è ragazzi è inutile che cerchiate di indovinare quando finirà il mondo perché è scritto chiaramente che non possiamo saperlo come potete ben immaginare questo non impediva che un sacco di gente invece cercasse di indovinare quando doveva venire la fine del mondo e la generazione di federico secondo come dire ha fra le mani i libri di un autore popolarissimo gioacchino da fiore il quale appoggiandosi sull'apocalisse aggiungendoci del suo aveva dato alcune indicazioni sui segnali che dobbiamo aspettarci ecco e chi aveva letto gioacchino da fiore ed era rimasto colpito e tendeva a credergli aveva l'idea che la fine del mondo sarebbe arrivata abbastanza presto e che il segnale più chiaro evidente sarebbe stata la comparsa dell'anticristo e quindi di un personaggio strapotente che avrebbe commesso crimini orrendi e in seguito c'è tutta un'altra sequenza di vicende tutte già però descritte nell'apocalisse quindi quindi quelli che avevano letto giochino da fiore si erano fatti convincere scrutavano il telegiornale no ma insomma le news che arrivavano anche lì le notizie circolavano eh circolavano veloci la gente raccontava la gente era avida di sapere cosa è successo e la guerra dell'imperatore come sta andando ecco eh la gente scrutava queste notizie per vedere se questo anticristo che doveva comparire eh magari forse si poteva individuarlo ecco e nel momento in cui la guerra di Federico contro i comuni si inasprisce e il papa decide definitivamente di schierarsi contro di lui e lo scomunica e lo paragona alla bestia la merettrice di Babilonia ecco eh allora qualcuno qualcuno comincia a dire ma sta a vedere che è lui è lui l'anticristo noi abbiamo una testimonianza straordinaria di un uomo di grandissima cultura e grandissima intelligenza un francescano salimbene fra salimbene da parma il quale da vecchio scrive una cronaca meravigliosa in cui racconta un sacco di storie del suo tempo lui ha conosciuto tutti era un personaggio abbastanza importante dell'ordine francescano ha conosciuto tutti i papi i vescovi i sovrani ecco eh e da vecchio racconta con un certo disincanto anche di tante illusioni che lui si era fatto da giovane eh e dice io per esempio ci credevo a Gioacchino ci credevo a questa storia che il mondo stava per finire e che sarebbe arrivato l'anticristo e mi son convinto che era proprio lui che era Federico l'anticristo ora naturalmente secondo l'apocalisse l'anticristo deve fare una certa sequenza di cose e Federico non le aveva ancora fatte tutte queste cose previste dall'apocalisse però salimbene dice io stavo lì ad aspettare le conferme e quando mi hanno detto che Federico secondo era morto ci sono rimasto malissimo dice salimbene allora mi ero sbagliato non era lui non ci volevo credere poi siccome appunto era uno che frequentava le alte sfere ero lì il giorno che il papa ha pubblicamente ha comunicato che Federico secondo era morto papa era lì sul balcone ero subito dietro con gli altri chierici a quel punto ho dovuto ammettere che in effetti mi ero sbagliato e da quel giorno la mia stima per le previsioni di Gioacchino dice salimbene è un po' diminuita però ecco c'era tutto un mondo che in Federico secondo era disposto a identificare l'anticristo lui a sua volta se ho capito bene era disposto invece a identificarsi non dico come il nuovo cristo però comunque ecco dici qualcosa ancora di più di questo non so che l'hai già accennato però questo tema nel libro è importante perché poi nella propaganda di guerra appunto queste cose qui sono importantissime sì fra l'altro c'è una certa tendenza a studiare la storia un po' compartimenti stagni io con i miei studenti insegno la storia oltre a scriverla con i miei studenti insisto molto sulle date non perché ecco loro devono saperle perché perché ogni tanto le sincronie sono significative noi ce le perdiamo no per cui uno studia la riforma della chiesa studia san francesco l'ordine francescano sant'antonio poi chiude il capitolo e studia l'impero e la lotta fra papà tempero invece no tutte queste cose succedono assieme quindi mentre federico secondo sta costruendo le basi del suo potere sta viaggiando fra italia germania sta avendo i primi cruenti contatti con con i comuni del nord nell'italia centrale sta gironzolando san francesco predica costruisce il suo ordine e quando francesco muore i suoi immediati successori gli costruiscono attorno alla figura del secondo cristo sono i francescani i primi infatti salimbene lo era ad aspettarsi la fine del mondo da un minuto all'altro perché c'è è venuto è già venuto il secondo cristo ed è francesco negli stessi anni in cui federico combatte la guerra contro i comuni italiani siamo fra il 1236 e il 1250 in francia regna un grande mistico come luigi nono san luigi a sua volta convinto che sta incombendo la fine del mondo che per questo bisogna farsi trovare con gerusalemme cristiana se no che figura si fa e quindi propugnatore della crociata lo sappiamo ne farà due la prima finirà male e la seconda gli sarà fatale quindi c'è tutto un clima non soltanto in in italia non soltanto presso gli ambienti diciamo più più dotti perché comunque giochino scrive in latino quindi bisogna avere una certa cultura per leggerlo ma anche a livello diffuso probabilmente c'è quest'idea questa prima metà del 200 che appunto è costellata da questi personaggi veramente colossali no che che fanno cambiano cambiano la direzione della della storia europea in tantissime direzioni e poi stanno succedendo delle cose incredibili fuori per cui a un certo punto arrivano gog e magog cioè arrivano i mongoli dalle profondità dell'asia arrivano questi popoli nel 1240 41 travolgono l'ungheria si spingono in boemia nelle parti meridionali della polonia nessuno sa esattamente chi siano da dove arrivano che diavolo di lingua parlano perché arrivano da migliaia di chilometri più a est quindi cioè e appunto vengono si pensa che siano lì per spazzare via come avrebbero dovuto fare i cavalieri dell'apocalisse la cristianità prima che venisse ricostruita eccetera lì è il papa che tiene i nervi saldi e dice parliamoci con questi tizi invece di spaventarci troppo in questo ci sta quindi anche che federico secondo venga raffigurato dai suoi avversari appunto come l'anticristo viene proprio proposto come l'incarnazione del male lui collabora per esempio utilizzando mercenari saraceni nel suo esercito quindi da subito l'idea che comunque combatte contro i cristiani usando dei musulmani è una carta che viene consegnata nelle mani della propaganda pontificia e lui appunto a sua volta tende a presentarsi gioca ambiguamente perché ogni tanto addirittura appunto dice vabbè se questo è il papa io faccio l'anticristo allora davvero quindi in certe lettere sembra sottintendere addirittura questa cosa ma molto di più l'idea del secondo cristo davvero non credo che si pensasse figlio di dio ma investito di una missione salvifica pari a quella appunto di un grande profeta sì tant'è vero che quando dicevamo prima è nato a Iesi quando rilascia un diploma per Iesi dice ah la nuova Betlemme con grandissima modestia dicendo a Betlemme è nato Cristo qui sono nato io uguali quindi sicuramente ci gioca e ovviamente questo poi diventa anche questo un campo di tensione fortissimo con questo duello che è retoricamente letterariamente altissimo fra le due grandi cancellerie dell'epoca perché si scambiano insulti feroci la cancelleria imperiale e la cancelleria papale ma con una qualità letteraria impressionante usano il sarcasmo l'ironia le metafore si sparano citazioni bibliche ad alzo zero reciprocamente sono usano anche un latino complicatissimo per far vedere che sono più dotti degli altri quindi è una lettura è un labirinto leggere queste cose ma se si riesce a decifrarle sono divertentissime proprio perché si vede la cultura usata nella maniera più aggressiva possibile senti a proposito degli arcieri saraceni uno degli elementi oggi del mito di Federico II naturalmente è anche quella della tolleranza ora il punto è che Federico II aveva ereditato dalla mamma Costanza un regno dell'Italia meridionale che era effettivamente un regno multietnico e multireligioso dove c'era una componente significativa di popolazione e di clero greco e in Sicilia c'era una componente significativa di popolazione araba rimasta musulmana con una qualche legittimazione anche sotto il governo dei sovrani cristiani normanni i quali intendiamoci non erano certamente degli illuministi del diciottesimo secolo non pensavano certamente che una religione fosse buona quanto un'altra non erano come un altro Federico II a me anche lui caro Federico II di Prussia il quale appunto nella Berlino del diciottesimo secolo diceva faceva costruire chiese cattoliche chiese protestanti e diceva il mio interesse è che qui venga gente che ha voglia di lavorare e se verranno turchi e arabi io costruirò per loro delle moschee perché qua ognuno deve andare in paradiso a suo modo questo Federico II di Prussia i re normanni e il loro nipotino Federico II no erano sovrani cristiani e che la religione cristiana fosse quella giusta e le altre sbagliate e perniciose non c'era il minimo dubbio però indubbiamente sotto i re normanni c'è una tolleranza di fatto verso la pratica dell'islam da parte della popolazione araba in Sicilia io che non sono assolutamente uno specialista di Federico II però mi pare di aver capito che lui di fronte alle comunità di contadini arabi della Sicilia quando vede che questi come dire hanno qualche velleità autonomista reprime molto duramente reprime deporta sradica queste comunità arabe musulmane però indubbiamente non li stermina tutti quanti li deporta in parte in Puglia e questi deportati in Puglia evidentemente li deve aver trattati comunque abbastanza bene perché loro poi comunque gli forniscono regolarmente dei reparti militari che sono una delle forze importanti del suo del suo esercito ecco questi famosi arcieri saraceni ecco allora volevo sapere appunto intanto un po se questa versione estremamente riassuntiva che ho dato della politica religiosa di Federico ha un qualche fondamento e poi e poi parliamo anche appunto del ruolo militare di questi arcieri saraceni e quindi di quello che è poi il grande tema di tutto il tuo libro come come si combatteva la guerra allora come era l'esercito di Federico sì sì lucera la colonia saraceni in Puglia è uno per esempio secondo me degli elementi più forzati del mito di Federico perché appunto viene presentata come il risultato di una politica interconfessionale appunto della libertà religiosa di Federico in realtà è un ghetto perché appunto questi erano persone che avevano le loro case le loro terre le loro famiglie nella Sicilia occidentale e a un certo punto Federico decide di sradicare la presenza islamica in Sicilia perché ogni tanto erano un po' turbolenti perché Federico non ha vissuto delle belle esperienze in Sicilia era un'isola che non amava e la vuole tenere ben controllata e insomma c'è una sequenza impressionante di rivolte di questi sudditi musulmani di Sicilia che sono distrattati e oppressi dagli ufficiali federiciani rivolte che vengono tutte represse nel sangue con impiccagioni pubbliche eccetera eccetera a un certo punto Federico ha tre scelte sostanzialmente ai musulmani venne andate morite o venite in Puglia e la gran parte in realtà dei musulmani di Sicilia fuggi in Tunisia una certa quantità qualche migliaio accetta la deportazione a Lucera e qui vivono sotto ricatto sostanzialmente cioè la comunità è effettivamente tollerata è effettivamente un'isola musulmana all'interno dell'Italia meridionale cristiana ma a patto che combattano cioè se non combattono diventano inutili e quindi seguiranno la sorte degli altri siciliani che non hanno accettato di combattere quindi non è un grande esempio diciamo di tolleranza e di rispetto è semplicemente un'operazione intelligente cinica ma intelligente per procurarsi un contingente fedelissimo perché non potevano fare altro in realtà poi è vero loro in qualche misura si affezioneranno Federico secondo lo si vede con Manfredi a cui loro saranno fedelissimi proprio perché figlio di Federico a cui comunque sentivano di dovere quantomeno la loro sopravvivenza come comunità dal punto di vista militare gli arciati saraceni forse hanno avuto meno peso di quanto la certa mitologia gli attribuisce però hanno avuto un peso fortissimo nelle prime fasi della guerra che per i primi due anni Federico vince sostanzialmente tutti i principali confronti militari soprattutto appunto questa battaglia di corte nuova che avrebbe avuto tutte le tutto il potenziale per essere una svolta nella guerra perché davvero Milano perde migliaia di uomini secondate che Milano avrà avuto 150 mila abitanti è troppo ottimista o più di 100 mila quindi 50 mila maschi quindi 20 25 mila uomini in età adulta in grado di combatterne perderne probabilmente 5 o 10 mila in un colpo era i migliori fra l'altro noi più quelli nell'età giusta i più esperti eccetera quello è un colpo micidiale ecco questo è dovuto al fatto che effettivamente Federico era riuscito a fare quello che non era riuscito a fare suo nonno cioè a trovare la tattica che gli avrebbe permesso di battere la fanteria comunale perché la forza delle città era di avere queste grandi masse di fanteria ben addestrata molto motivata perché erano liberi cittadini che combattevano per difendere la loro patria in collaborazione con una cavalleria magari non addestratissima perché appunto erano cittadini che di solito facevano altro nella vita i notai i giudici i grandi mercanti e poi combattevano anche a cavallo poi c'era anche un gruppo di professionisti la collaborazione fra le due era molto ostica per le truppe imperiali che invece non avevano una fanteria all'altezza e si trovavano a dover combattere contro questa cavalleria che caricava poi si ritirava dietro alla fanteria diventava così inattaccabile perché la fanteria in massa non è non è vincibile dalla cavalleria da sola. Federico II spariglia con gli arcieri cioè introduce l'arma in grado di disgregare queste masse di fanteria e renderle così vulnerabili alle cariche della cavalleria tedesca e a corte nuova probabilmente questo è proprio un elemento determinante cioè questo questo quadrato quadrato è un po' forte insomma questa linea ma massiccia di fanteria lombarda viene lentamente pazientemente una battaglia che dura ore e ore disgregata perché viene punzecchiata dagli arcieri attaccata dalle fanterie cremonesi caricata dalla cavalleria non cede ricominciamo arcieri poi fanteria poi cavalleria non cede ancora alla fine cedono di notte si danno alla fuga ed è un disastro e lì è proprio l'abilità probabilmente anche tattica di che riesce a elaborare questa probabilmente anche essendo cresciuto in italia dove era un po' più sofisticata l'arte militare che in germania riesce a elaborare una maniera per vincere i comuni in cui effettivamente gli arcieri saraceni sono una delle componenti fondamentali senti quindi abilità tattica d'accordo al tempo stesso leggendo il libro alla fine uno rimane con l'impressione che non fosse un grande generale premesso che ovviamente questi giudizi è facilissimo darli nella comodità dei nostri studi sottovalutando gli enormi attriti che chiunque cerchi di condurre una guerra deve sempre affrontare no per cui è chiarissimo che condurre una guerra è una delle cose più difficili che si possano fare è forse l'unico campo dell'esistenza umana in cui qualunque cosa tu voglia fare hai di fronte qualcuno il cui unico scopo nella vita è di impedirti di farlo e quindi è chiaro che inoltre poi nelle condizioni ovviamente del tempo le condizioni logistiche di rifornimento di tecnologie tutto complicatissimo però per esempio dal tuo libro viene fuori chiaramente che questa guerra anche se i momenti salienti come sempre sono alcune grandi battaglie però come tutte le guerre medievali le battaglie sono poche non è come le guerre di napoleone che ogni singola campagna di guerra comprende diverse battaglie di cui almeno una decisiva qui non è così una guerra dura 15 anni di battaglie vere ce ne sono tre o quattro perché perché sostanzialmente intanto si combatte in un territorio irto di fortificazioni pieno di città vicinissime una all'altra tutte murate e difficilissime da prendere la campagna è piena di castelli si prendono ma ci vuole un po di tempo anche quelli a prenderli e quindi la battaglia la rischi solo se sei abbastanza sicuro di poterla vincere se no non la rischi ti chiudi dentro ecco allora quando si rischia una battaglia è proprio o perché la situazione è così drammatica che entrambi i contendenti accettano di affrontare questa cosa che è sempre terribile per loro ancora di più la cosa terribile per tutti è chiaro oggi c'è la battaglia e stasera si saprà chi ha vinto e chi ha perso potremmo rimandare facciamo un'altra volta invece ma poi soprattutto c'è se alleggia sempre l'idea che chi vince o chi perde quel giorno dio è intervenuto anche lui a dare una mano a quelli che hanno ragione e quindi quella sera si vedrà anche da che parte sta dio ecco possiamo capire che loro esitassero a dare battaglia a mettere tutto in gioco in una giornata no ecco e quindi la guerra è fatta soprattutto di assedi qual è il programma per l'anno prossimo l'anno prossimo sediamo brescia e se l'avremo presa potremmo dire quest'anno ottimo abbiamo preso brescia l'anno è come giocare risico un po no con tempi molto rallentati però ora viene fuori abbastanza chiaramente dal tuo libro che il ritmo dei raccolti annuali è una cosa decisiva che se la città ha il tempo di raccogliere il suo grano a giugno e poi tu arrivi a luglio per assediarla dalle mura ti fanno le pernacchie perché hanno i magazzini pieni se invece tu fossi arrivato a maggio ad assediarla quando i raccolti non erano ancora stati mietuti e i magazzini della città sono vuoti sarebbe stato molto peggio ora federico arriva sempre a luglio ad agosto ad assediare le città se non a settembre addirittura vero è che appunto dobbiamo immaginare l'enorme attrito dell'organizzazione con un esercito che comprende sì alcuni contingenti di professionisti ma dove le forze migliori sono i nobili tedeschi e i nobili del regno i quali ogni inverno tornano a casa naturalmente ci mancherebbe poi in primavera gli devi scrivere e gli devi dire va bene trovatevi nel posto il giorno tale trovatevi a Lausanne il primo giugno e poi lentamente mette d'accordo tutto faticosissimo però effettivamente arriva sempre ad assediare le città quando il raccolto è stato già fatto con me e l'altra cosa devo dire che non ha tanto a che fare con l'essere o no un buon generale però anche a me ha colpito comunque come uno di quei momenti in cui ti sembra di dover dare un giudizio sul politico all'inizio quando Milano offre la pace offre la sottomissione e lui dice no perché vuole la resa incondizionata vuole tutto non accetta di negoziare con un avversario sconfitto che ha già chiesto la pace riconoscendo di essere sconfitto quello col senno di poi si è un errore enorme penso come sarebbe andata se avessero fatto la pace e accettato tutti di obbedire all'imperatore no ecco cosa cosa ne dici tutto questo sì è vero ci sono secondo me due o tre cose da tenere presenti una è che fare la guerra alle città italiane era la peggior guerra credo che si potesse fare forse seconda solo ai mongoli perché perché le città italiane sono tante come giustamente ricordavi tu e sono tutte bene armate sono tutte molto popolose per gli standard dell'epoca quindi in un'epoca in cui un esercito di 5 6 mila uomini è un grosso esercito in cui appunto luigi nono fa le crociate con 15 mila uomini ed è una cosa che lascia tutti a bocca aperta 15 mila uomini li metteva in campo milano da sola meno addestrati meno preparati ma sono numeri impressionanti se si considera che milano non era da sola aveva con sé piacenza brescia genova e spesso federico si trova in questo in questa situazione cioè che mentre prepara una campagna da un lato gli scappa l'altro e quindi gli si infiamma la romagna mentre lui vorrebbe attaccare milano mentre è in lombardia le città venete si ribellano e quindi è sempre un po sì è sempre un po in ritardo di una tappa perché questa questa cosa tende a scappargli da tutte le parti c'è anche un secondo fattore secondo me è uno dei grossi problemi delle autocrazie in generale e anche non delle autocrazie anche di certi politici italiani ma non approfondiamo è che quando la propaganda tende a costruire l'immagine del leader il leader finisce col crederci no per cui c'è un certo momento in cui qui per dieci anni quindici anni ti ripetono che sei l'uomo della provvidenza non ne sbagli una che hai sempre ragione poi non concepisci più di accettare un parere diverso dal tuo ecco secondo me federico aveva un po questo atteggiamento cioè una grandissima fiducia nei suoi mezzi e quindi va bene attacchiamo a novembre tanto a novembre ho vinto corte nuova quindi a novembre vinco e poi a novembre si trova col fango fino alle ginocchia con un esercito totalmente impantanato e deve ritirarsi vergognosamente no per cui secondo me c'era un po anche questo fattore di un personaggio che forse davvero convinto che di avere qualche sorta di protezione divina di benedizione divina per cui le cose gli sarebbero andate bene alle volte non faceva i conti esattamente con la realtà delle cose e si imbarcava in imprese che a posteriori sono evidentemente erano veramente destinate a essere fallimentari per esempio appunto tutta questa guerra medievale tendeva alla stagionalità si partiva in primavera e si finiva con l'autunno perché poi la pioggia il la difficoltà di procurarsi i viveri il freddo tendevano a far chiudere soltanto gli assedi duravano anche l'inverno invece federico fa un sacco di campagne autunnali invernali infatti in questo libro se dovessi dire l'altro protagonista probabilmente assieme a federico alle città il fango c'è tantissimo fango perché perché da un l'altro punto non non volevo fare il come dire l'oleografia della guerra medievale no quella dei cavalieri in queste armature nelle armature splendenti che si battono dandosi del del lei e senza spargere sangue perché è volgare per cui c'è tanto sangue e tanto fango ma anche perché appunto federico faceva la guerra in condizioni che probabilmente molti suoi contemporanei avrebbero rifiutato e lui osava terza cosa i comuni ci mettono del loro per cui riescono se a corte nuova federico aveva messo in campo una tattica che gli permetteva di battere il vecchio sistema con cui i comuni combattevano in due anni i comuni si inventano una controtattica che è la fortificazione campale che blocca federico infatti tantissimi di queste sedi è curioso non si svolgono sotto le mura delle città ma sotto le fortificazioni campali che le città costruivano per proteggere il loro contado perché perché le città sono piene di falegnami sono piene di ingegneri di muratori mettono tutto questo know-how sul campo e questo neutralizza la superiorità diciamo del dell'esercito federiciano e gli costa alcuna delle più delle sconfitte più dolorose grazie a tutti